buongiorno a tutti per ritrovati sul mio canale oggi proseguiamo penso l'ultimo scenario l'ultima sessione con i rifugiati difficoltà sopravvissuto giorno 22 e ci vi lascio intanto la intro per che riprendiamo subito dal punto di cui siamo rimasti la scorsa volta rieccoci praticamente sta arrivando lord kraven abbiamo lasciato appena appena prima del suo arrivo e adesso cerchiamo di capire un attimino se quest'ultimo arrivo di 100 persone è sostenibile oppure no se siamo già pronti non lo so onestamente non me lo ricordo no abbiamo 60 60 malati oltre quindi non siamo per niente pronti e ne arrivano altri 100 allora io direi che dovremo fare una nuova infermeria ok qua così almeno in pausa possa ragionare un attimino dove la facciamo potremmo farla in questa zona ma non ci stanno granché strutture tipo così però qui a ci starebbe due è qui anche sopra se no qua sopra qualcuna in più ci sta qualcuna in più ci sta però dobbiamo anche fare delle case facciamo così allora il pub lo dobbiamo aprire ma lo stavamo facendo non mi ricordo dove acqua il pub è qua in costruzione potrei fare un'altra zona qui onestamente quando ci stanno due in altezza facciamo queste poi facciamo un po di case di 11 solo praticamente uno solo appena avremo un po di legno lo faremo però adesso lord kraven è arrivato capitano ci sono oltre 40 bambini guidati da pochi adulti si sono radunati alle porte della città vogliono entrare ma tra di loro c'è lord kraven cosa dovremo fare malcontento aumenta la speranza di unirarsi noi lo facciamo entrare e ci penseremo noi cavolo quanti malati veramente tanti speriamo che a breve possano liberarsi un po di spazi impotenti terrorizzati un manipolo di lord tra cui lord kraven ha radunato un polto gruppo di bambini in città il nostro caro lord si guarda attorno visibilmente intimorito privo ormai di ogni forza e alla merce dei nostri concittadini i bambini sono stranamente silenziosi la maggior parte di loro sono orfani dice uno dei lord alla guida dobbiamo assolutamente aprire risolvi il conflitto di classe la recente ostilità tra i lord e i nostri concittadini sommate a quelle progresse e renderanno la convivenza molto difficile se vogliamo proteggere il futuro della città dovremo contenere le tensioni sociali prima che degeri degenerino assolutamente qui poi dobbiamo fare un po di costruzioni e soprattutto di scaldare qua qua la dovrei mettere tipo qui quindi facciamo un po di venirebbe metterne un'altra 30 e manca legna si 30 legna eventi di ok arrabbiati per il freddo capitano la gente sta protestando molti cittadini furiosi sono radunati dopo che li ha costretti a vivere in abitazioni gelide per troppo tempo hanno dovuto assistere impotenti al peggioramento della salute dei propri figli e ora ne hanno abbastanza esigono che lei faccia qualcosa il problema che non ho visto qui e riscaldare ora è difficile no disperdiamo disperdiamo no scende ancora di 10 abbiamo fatto bene a non farlo appena abbiamo 30 di legno ci prepariamo abbiamo gli specialisti piazziamo una seconda infermeria qua si e ora vediamo tec caldaia vapore se la mettessi qui no non riscalda va messa allora qua sopra va messa qua sopra quindi mi servirà un po di legna per arrivare fin su 7 7 nel mentre com'è qua la temperatura fredda non molto fredda ma fredda per ancora un giorno possiamo fare la strada ok e qui andiamo a piazzare una caldaia perfetto così ci sta anche una terza infermeria qua così possiamo mettere altre 30 persone qui come siamo messi tre ore quattro ore il problema sono quelli gravi quelli gravi dobbiamo assolutamente metterli dentro il prima possibile e qui non ce n'è meno di un'ora dai un po di posti che si svuotano bene speriamo che diano priorità a quelli gravi teoria avrebbe senso velocizziamo un pochettino situazione critica qui eh cerchiamo di non fare i morti visto che siamo arrivati a buon punto bene tutti i malati gravi sono entrati ora però dobbiamo fare assolutamente altri posti salute infermeria non abbiamo persone senza tetto per fortuna così apriamo altri 60 posti in cura altro evento un linciaggio collettivo capitano si è redonato una folla imbufalita a caso dell'arrivo di lord graven tutti vogliono la sua testa la pagherà per ciò che ha fatto alla nostra gente ci voleva morti ma l'unica morte che avrà sarà la sua li dobbiamo fermare perché sennò lo ammazzano il problema è che si incazzeranno come una iena qui non possiamo fare niente dov'è il coso? il tempio è qui non c'è niente da fare per abbassare il malcontento iniziamo a tirar giù un po' di come siamo a livello scusa di di in realtà qualcosina in più ce l'abbiamo abbassiamo un po' di tipo questo frantuma carbona a vapore forse siamo sempre a 3027 perché ne fanno un po' in eccesso questi ok benissimo abbiamo 80 malati fuori dalle cure però abbiamo fatto lista di controllo infermeria quindi 15% più velocemente ora potremmo fare un'efficienza del generatore non è una brutta idea non abbiamo abbastanza legna per fare automazione di prototipi ma neanche per fare questa per ora aspettiamo l'acciaio ne abbiamo quindi non mi sembra così urgente fare l'acciaio qua perdiamo però 120 razioni al giorno ok dentro 50 andiamo a fare efficienza del generatore iniziamo a mettere dentro bravi persone in cura ottimo questi stanno rientrando? sì stanno rientrando entrambi un'ora ci porta un po' di legna un po' di acciaio un po' di carbone ma soprattutto nucleo di vapore ok però in realtà penso che siamo abbastanza a posto ok ora ci rimangono solo 7 persone fuori mettiamo 1 così apriamo il pub speranza aumenta ma soprattutto ci abbassa il malcontento e poi come ho messo il tempio ancora indietro e il depositare della fede è quasi però quasi pronti per ok allora qui mi sembra che non ce ne sia altre di zone da esplorare no quindi direi che per ora va bene così per ora va bene così dobbiamo poi fare ricerche per migliorare il cibo perché ora il cibo è in una situazione un po' critica carbone 3293 se io qua facessi così cambia qualcosa no no quindi lui ne fa già abbastanza ne fa già abbastanza ah no però probabilmente non va perché il magazzino è pieno non è che riesco a costruire un magazzino da qualche parte no eh sì qua bene posto inutile ottimo perfetto perfetto vai e poi qua sotto invece così benissimo così possiamo andare avanti e in attesa questi per ora li lasciamo qua perché probabilmente loro sono malati ma adesso di aumentare i malati non mi va tanto persone ne abbiamo possiamo fare oh processione così abbassa il malcontento e qui altre leggi che leggi ci rimangono? penitenza pubblica è raro umano ma chi persevera deve sottoporsi alla penitenza pubblica al fine di scoraggiare il prossimo dal seguire il sentiero del male solo così saranno perdonati la speranza aumenta ogni uso il malcontento diminuisce ogni uso però adesso aumenta allora lo si potrebbe fare però adesso abbiamo il malcontento alto se no il liquore non cambia niente perché serve solo per la minestra ma noi attualmente non abbiamo minestra legge di duelle assolutamente no in caso del piacere no ovviamente questo non mi interessa potremmo fare poi questa penitenza pubblica però dobbiamo abbassare il malcontento anche perché il malcontento qui va portato al 25 abbiamo 3 giorni e 12 ore per rimanere in carica un giorno con speranza oltre i 50 è ok malcontento sotto il 25 il problema è che malcontento sotto il 25 vuol dire no lavori per tante ore no lavori lunghi intanto sovralimentiamo così si scalda e in teoria dovrebbe essere sufficiente no? cos'è sono questi? no non dovrebbero servire ok tanto il malcontento inizia a scendere molto bene poi ci sarà anche questa processione e questi invece ne abbiamo ancora tanto quant'anno di ricarica? due giorni? due giorni? quattro giorni cavolo questa non ce la facciamo a farla penso due giorni due giorni ok peccato per questo diminuisce il malcontento era tanto utile cominciò la processione notturna un consiglio non richiesto capitano Lord Craven ha lasciato la città ci ha chiesto di consegnarle questa nota ti devo la vita e per questo te ne sono grato le cose sono ovviamente cambiate tu sei al comando e io no ciò significa che diventerai come me il potere corrompe ricordatelo i grandi uomini sono quasi sempre cattive persone e io lo so sono stato entrambe le cose ora puntiamo ad abbassare il malcontento che è già scesa a metà ma ora giusto perché c'è la sovralimentazione puntiamo a 5 i malati iniziano a scendere cosa c'è che alzo oltre i 20 lavori straordinari strutture mediche sovrafallate due decisioni impopolari ok allora qua ci mettiamo un po' di carbone ma io qua ci metto un po' di razioni ma non credo che serviranno onestamente perché ora siamo in discesa però credo che già spingendo un po' in giù il diciamo le cure continuando a curare gente potrà scendere un po' anche il malcontento è vero che i malati sono tanti durante la notte ma credo che riusciamo a farli fuori velocemente batti becca in cucina capitano uno dei lord sta avendo una discussione accesa con alcuni dei nostri che sostengono che abbia saltato la fila lui dice che il suo sangue nobile gli dà il diritto di essere servito per prima non peggiamo i lord appoggiamo i nostri concittadini mandiamo dei uomini perché sì il conflitto sarà risolto pacificamente assolutamente sì non voglio stare su nessuno ecco le case ci sono per tutti anche se sono case scarsine qua mi sa che metto così qua cosa arriva? un po' di acciaio o due nuclei di vapore ok ma io penso che adesso le buona le infermerie siano sufficienti questo è pieno perché non lo lavorate se io lo abbasso intanto sempre 3.300 ok è arrivato ancora un po' di acciaio i malati iniziano a scendere aumentano quelli nuovi ma qua sono 80 in cura ok passate le 4 noi in realtà quanto abbiamo? quanti posti abbiamo? eh no sbagliato qua abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 infermerie quindi 180 posti molto bene come morti di ieri stai scherzando? fosse e chi è morto? quando? numero delle vittime io non me lo ricordo mica ve lo andrò a rivedere ma ero convinto assolutamente di non avere morti questa è ghiacciata no non è vero ok doveva solo ripristinarsi un po' allora io quello che vorrei fare eh ora scende la temperatura questo non è piacevole dobbiamo farlo entro l'arrivo del 26esimo giorno ok questo cos'è? deposito pieno in realtà qua già possiamo levarli un po' così almeno riduce un po' il malcontento e poi potremo farlo in concomitanza con il tempio magari già stanotte possiamo provare a levare turni lunghi intanto miglioriamo l'efficienza potrei anche fare una botta lunga di sovralimentazione gli diamo sovralimentazione due gradi due slot lo faccio scendere e poi tipo stanotte faccio partire sovralimentazione la teniamo per due giorni ci proviamo almeno e teniamo bassa il malcontento sacerdote sotto accusa signora c'è una donna che vuole vederla dice di avere delle prove contro uno dei nostri sacerdoti standa quanto dice l'accusata di eresia lei è la sola speranza che ho signore dice piangendo quando sono andata a denunciare questo disgraziato gli altri sacerdoti mi hanno cacciato ora continuo a lanciare false denunce contro chiunque gli ha fastidio lamentendo urla il sacerdote mente come fanno tutti gli eretici appoggiare il malcontento appoggiando il sacerdote perché non voglio aumentare il malcontento non possiamo aumentare il malcontento soprattutto anche qua 818 per questo è meno importante ok ancora non ne abbiamo anche perché questa è solo speranza questo è un po' di malcontento lievemente però è meglio che niente sicuramente ok allora così abbiamo fatto gli accoppiamenti di sovralimentazione quindi così alza i due quello che potrei vorrei fare è il bypass quanto ci vuole farla la ricerca è ovviamente interrotta quindi per ora facciamo così sovralimentiamo dalle 9 fino alle uh ce la facciamo a tenerlo basso quello che non penso è che riusciremo a tenerlo per due giorni perché la sovralimentazione è un po' così ah ma scusa quindi se ora faccio così ce la facciamo conflitto di classe risolto ce l'hai fatta i disordini sociali sono stati placati siamo sulla strada giusta per porre fine agli attriti tra i cittadini lordi pensavo di tenerlo due giorni connesso quindi ci siamo abbiamo finito anche questo scenario no si boh siamo tutti uguali abbiamo lasciato entrare tutti e abbiamo iniziato a creare un mondo dove le persone non vengono giudicate in base alla propria classe sociale ma in base alle proprie azioni ci auguriamo che il ricordo dell'animosità tra le nostre genti svanisca presto per la prima volta abbiamo l'opportunità di essere uniti molto bene è riusciti è infatti anche achievement sopravvissuto dei rifugiati se riuscite a farla in modalità sopravvissuto sono molto molto contento mi spiace per quel morto che non ho capito da dove è arrivato me lo scriverete magari qua nei commenti si potrà sicuramente ovviare ecco però va bene io penso che comunque la partita sia andata abbastanza bene una lunga colonna di rifugiati pellegrini alla ricerca di una casa persa abbiamo combattuto duramente molto duramente per rincominciare da capo poi sono arrivati i lord credevamo che avrebbe potuto funzionare così è stato problemi acutizzati denunciando infedeli depositari della fede vigili condizioni pessime ma non ci siamo arresi ecco quale prime infermerie abbiamo riportato la pace proviamo a restare uniti senza ripetere gli stessi errori almeno possiamo sperare beh se ne riuscite a integrare tutti lord grave ne vivo anche se se ne è andato però comunque siamo riusciti a completare tutti gli obiettivi salvo quello del morto che ricontrollerò o fatemelo sapere voi dove mi ha scappato proprio non l'ho visto è strano perché ti arriva la notifica qui in alto penso che l'avrei vista in ogni caso penso di essere abbastanza soddisfatto di questa partita e la prossima sarà dura perché sarà la caduta di winter home che è dato da tanti come lo scenario più difficile quindi penso che ci sarà una pausa perché non penso che riuscirò a farlo in tempi brevi ma in ogni caso grazie per il supporto per aver visto questo video come sempre ci vediamo a un prossimo video ciao